La birra di oggi è un barley wine, è tutto italiano, prodotto infatti da BrewFist. Come al solito la prima cosa da fare direi che è vedere la scheda tecnica di questo interessantissimo barley wine. Come dicevo infatti il produttore è BrewFist, siamo a Codogno, provincia di Lodi, proprio nella bassa lodigiana, a pochissimi chilometri o addirittura metri da dove sto registrando. Il nome di questa birra è la Trinidad El Vasco, fa parte di una più ampia serie di birre prodotte da BrewFist, tutte invecchiate in botte. Lo stile di questa birra è appunto un barley wine, 11,7 il volume alcolico, o meglio 11,7 è riportato sul sito. Su questa bottiglia questo lotto è indicato come 12 gradi, comunque la differenza è leggera. Costo di questa bottiglia? Allora l'ho acquistata, credo ormai quasi un anno fa, questa in un pub e non mi ricordo il prezzo, ma vedo online sui beer shop, appunto online, che il prezzo va tra gli 8 e i 9 euro. Il bicchiere suggerito per bere questa birra è uno snifter o un pallone o come nel mio caso utilizzerò un cognac e si tratta di un primo assaggio. Come dicevo questo barley wine fa parte di una serie di BrewFist di birre invecchiate in botte, in questo caso la serie Trinidad sono tre diverse birre, tutti e tre barley wine invecchiati in differenti botti, botti che hanno contenuto quindi differenti alcolici. In questo caso la Trinidad e il Vasco è stata invecchiata per un anno in botti che hanno contenuto porto. Esiste della stessa serie altre tipologie di birre, sempre invecchiate in botte, ci sono delle stout, ci sono altre cose, ma appunto adesso ho pensato, visto che non avevo ancora fatto video su questo canale di barley wine, di scegliere questo particolare prodotto che non ho mai assaggiato, ma conosco la qualità dei prodotti di BrewFist, quindi andiamo tranquillamente diciamo a colpo sicuro. BrewFist, per chi non lo conoscesse, è un birrificio appunto italiano che si trova a Codogno, provincia di Lodi, quindi siamo in Lombardia, nella parte meridionale della Lombardia per essere precisi. Come dicevo non ho mai fatto un video su barley wine, che è uno stile inglese, è diciamo nella panoramica degli stili britannici quello sicuramente più alcolico e decisamente al di sopra dello standard della maggior parte degli stili tradizionali inglesi. Infatti i barley wine superano tranquillamente i 10 gradi alcolici, sono quasi sempre appunto volumi alcolici importanti, a doppia cifra, e letteralmente come suggerisce il nome barley wine si tratta proprio di vino torzo. Hanno caratteristiche diciamo sempre piuttosto complesse, sono birre che possono tranquillamente, e anzi è meglio se vengono fatte invecchiare. In questo caso appunto il barley wine viene poi anche passato in botte, quindi c'è già una prima fase di invecchiamento di un anno appunto in botte. Come capita per altri prodotti appunto whisky, barbon, eccetera eccetera, la botte conferisce caratteristiche al prodotto finale anche in base a ciò che la botte ha contenuto prima. Per questo motivo la linea appunto comprende birre invecchiate in botte che hanno contenuto diversi superalcolici, quindi il prodotto finito sarà differente. In particolare questo barley wine è un cosiddetto smash. Smash è una stigla che significa single malt, single hop, ossia birre prodotte con appunto l'utilizzo di un solo malto, una sola tipologia di malto e una sola tipologia di luppolo. La cosa è riportata anche in etichetta, infatti adesso volevo proprio analizzare questa etichetta che partiamo dall'estetica generale della bottiglia. Sul tappo c'è il logo BrewFist Italian Ales. L'etichetta è una singola etichetta rettangolare che copre quasi per intero la superficie laterale della bottiglia. C'è il logo ovviamente di BrewFist che rappresenta un pugno. C'è in questo caso una rosa dei venti, infatti la trinità del Vasco si rifà ovviamente all'esplorazione di Vasco da Gama. Infatti c'è sia la rosa dei venti sia il timone di una nave. Come dicevo appunto uno smash, infatti è riportato sull'etichetta Barley Wine prodotto esclusivamente con Maris Otter che è un tipo di malto utilizzato appunto tipicamente negli stili inglesi e East Kent Golding che è un altro luppolo appunto inglese invecchiato per un anno in botti di porto. Poi c'è scritto non pastorizzata, consumare entro e c'è la data che è il 31-12-2025 quindi può tranquillamente invecchiare altri anni. 12 gradi il volume alcolico e le classiche informazioni, ingredienti acqua, malto d'orzo, lupolo, lievito. Ultima precisazione prima di versare questa birra, il bicchiere. Allora appunto per questi prodotti secondo me i bicchieri migliori sono sicuramente i bicchieri a chiudere tipo pallone o snifter. In questo caso è un cognac che è leggermente più grande di un pallone ma ovviamente è adatto. Sono birre che possono essere consumate, o meglio dovrebbero essere consumate a temperature più alte rispetto alle classiche alte fermentazioni. In particolare per i Barley Wine secondo me possiamo anche andare oltre i 12 gradi. Infatti facendo anche un po' di ricerche leggevo che tranquillamente si può stare tra i 14 e i 16 gradi. Che sì può sembrare una temperatura abbastanza alta ma siccome la caratteristica principale di questi prodotti è la complessità aromatica, tenere una temperatura più bassa andrebbe a rovinare appunto questa complessità e non ci permetterebbe di apprezzare tutto il bouquet aromatico. Quindi per questo motivo ho già tirato fuori da qualche minuto la bottiglia prima di iniziare a registrare, ma soprattutto basta armarsi di un economico termometro per appunto andare a vedere la temperatura. Perché i bicchieri così grandi? Sono molto comodi secondo me in generale per tutte le bottiglie che sono, per tutte le birre che sono state invecchiate in botte per andare a areare. E so che potrebbe spaventare ma in questo caso l'ossidazione non è da considerarsi un problema, non stiamo bevendo una ipa e quindi le birre devono avere un contatto con l'ossigeno e sicuramente ci sarà già una parziale ossidazione di questo prodotto proprio dovuta anche all'invecchiamento. Ok, non verso completamente, in questo modo avrò alzato sicuramente il fondo, ma questa la berrò comunque dopo con calma, mentre questo è quello su cui vorrei appunto concentrarmi. Già arrivano dei sentori interessantissimi, da qua dei profumi buonissimi, ma prima appunto volevo andare a misurare la temperatura, perché dobbiamo essere sicuri, come dicevo, di consumarla alla temperatura giusta. Se sono birre che magari conoscete già o sapete già più o meno a che temperatura berle, ovviamente potete calcolare e tirare fuori le birre dal freddiorifero un tempo più o meno necessario a fargli raggiungere la temperatura adatta. In questo caso, siccome 12 gradi mi sembra un pochino tanto, ho detto, prendo il mio termometro e infatti siamo a 15 gradi e 8, non siamo ancora ai 14, però come dicevo, secondo me tra i 14 e i 16 siamo più o meno nel range, quindi 15 e 8 può essere una temperatura già buona e sicuramente adesso comincerà ad aumentare la temperatura, quindi mi è nata di fortuna e ho azzeccato le tempistiche. Quindi torniamo all'analisi vera e propria di questa birra. Cominciando dalla schiuma, ovviamente è poco persistente, c'è poca schiuma. Il colore direi che è un panna, color panna, possiamo provare a avvinare un pochino, ma... Sì, confermo, il colore è direi un beige o panna, comunque è abbastanza irregolare. Il colore della birra è... questo direi che è davvero un colore molto scuro, potrebbe essere tranquillamente indicato per usare i soliti descrittori come color mogano. E la birra di per sé è davvero molto molto velata. Ora c'è un pochino di condensa sul bicchiere anche per la temperatura abbastanza elevata, ma la birra è davvero molto velata, non si riesce a vedere attraverso, anche puntandola direttamente verso il faretto di fronte a me. Passiamo quindi all'analisi olfattiva. Come preannunciato, la complessità aromatica è sicuramente una delle caratteristiche di questo prodotto e in cui bisogna iniziare a provare a elencarsi mentalmente tutti i vari descrittori, la classica ruota, e pensare quali potrebbero essere le cose che ci vengono in mente. Devo dire, la prima cosa che mi è venuta al naso, o prima ancora di questo forte alcolico e tutto il resto, è un profumo di tabacco. Può sembrare strano, ma sì, c'è qualcosa che ricorda tantissimo il tabacco e non è strano i fedzi nelle birre invecchiate in botte per tanto tempo. Comunque, cercando di fare un pochino ordine, c'è sicuramente, oltre a questo tabacco che mi è sembrato di sentire subito all'inizio, mi ha un po' sorpreso, ma poi dopo poi è stato no, beh, potrebbe essere sensata come cosa, c'è sicuramente una parte fruttata. E la parte fruttata, secondo me, è, non riesco esattamente a capire, ma mi potrebbe ricordare sia le ciliegie sotto spirito, ma forse mi sto facendo un po' ingannare dall'altra componente forte, che è quella alcolica, sia mi ricorda tantissimo le prugne, e quindi potrebbero essere questi i due descrittori che ritrovo in questa birra. Poi, appunto, c'è questo alcolico molto molto importante, c'è qualcosina poi che va, ricorda, secondo me, il legno, e c'è questo piccolo sentore di tabacco che mi ha colpito subito perché mi sembrava davvero strano come cosa, ma poi, appunto, ripensandoci, è sensato per questo stile. Vediamo quindi in bocca. Beh, molto complessa anche in bocca sicuramente. Direi che, come ci aspettavamo, è una birra in cui la componente principale è quella dolce. L'apertura iniziale è sicuramente molto dolce, molto maltata, non è il classico malto mieloso tipico delle birre di stampo belga. C'è qualcosa che, più che il miele, a me fa pensare al caramello, anche perché, penso al caramello proprio perché c'è qualcosa che va verso l'affumicato e il caramello comunque viene cucinato e scaldato e abbrustolito, insomma, mi fa pensare a quel tipo di dolcezza, zuccherina. Non arriva la classica nota amara sul finale, nel senso che sì, c'è sicuramente una chiusura amaricante, ma non è principale, non è preponderante. Tra il dolce maltato dell'apertura e l'amaro finale, sicuramente ciò che prevale è il dolce. Non significa che sia sbilanciata come birra, ci mancherebbe. È però semplicemente la caratteristica predominante, se dovessimo descriverla, tra il dolce e l'amaro, diremmo che è il dolce. Altra caratteristica fondamentale e molto, molto predominante è ovviamente l'alcolico, che si sente bene, si sente sia in bocca, si sente che scalda durante il tragitto in gola e nello stomaco, si sente anche ovviamente parlando, ritorna questa sensazione di calore in bocca. Insomma, la birra sbagliata per metà luglio, visto che la sto bevendo è fuori, ci sono 30 gradi. Però avevo piacere a bere questa birra e farci un video. Per quanto riguarda le sensazioni boccali, c'è appunto, come dicevo, questo calore dovuto all'alcol, astringenza bassissima o forse addirittura nulla, il che è molto buono secondo me, cosa che magari a volte nelle birre che fanno tanto tempo in botte potrebbe invece emergere un pochino di astringenza. e appunto, questo alcolico è importantissimo, frizzantezza, carbonazione direi bassa, molto molto bassa, e per quanto riguarda il corpo direi medio o medio basso anche il corpo. Dal colore mi aspettavo qualcosa di molto più denso, in realtà no, il corpo abbastanza, non è leggero ovviamente, ma comunque mi ero illuso che fosse molto più densa, in realtà non è una di quelle birre da masticare, magari appunto tipiche della tradizione belga. tendo a fare un paragone con le Strong Belgian Ale, vabbè, al di là della passione personale, perché sono un po' simili come stili, nel senso che siamo su birre molto complesse, con un tenore alcolico comunque di un certo tipo, che anche al naso hanno certi aromi, certe complessità per certi versi affini. Una delle cose che a me ricorda bere queste birre è sicuramente la grossa famiglia dei distillati. Ovviamente questa è invecchiata in una botte contenente porto, ora non sono un grande bevitore di porto, bevo un pochino di scotch ogni tanto, ma davvero poca roba, non è esattamente il mio mondo, però effettivamente se penso a scotch torbati invecchiati molti anni, sì, effettivamente c'è qualcosa che mi ricorda quel mondo, qualcosa che va verso il legno appunto, spesso anche i sentori affumicati si possono ritrovare in alcuni scotch, soprattutto in quelli torbati, che sono secondo me quelli più interessanti, ma per gusto personale, non per altro. Quindi sì, c'è qualcosa in comune, è sicuramente una birra da meditazione, ripeto, non forse la più adatta per il clima estivo di metà luglio, però appunto non vorrei ricadere nel banale luogo comune per cui in estate si debba bere per forza se è shonipa e invece le birre complesse vadano tenute solo per il 25 dicembre. In realtà è una birra sì da meditazione, che non può essere bevuta con troppa fretta o con disattenzione, proprio perché è un prodotto molto complesso e interessantissimo. Questa appunto è la Trinidad El Vasco, un interessante, ottimo barley wine di Brewfest, non avevamo dubbi perché, conoscendo già il birreficio, non avevamo dubbi sulla qualità delle loro birre. Skoll! 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 Skoll!